Musica Buongiorno, apriamo questa prima edizione del nostro telegiornale con la cronaca estorsioni, usura, armi e spaccio di droga. La Polizia di Stato ha eseguito tra Cireale e Cicatena 18 misure cautelari di cui 16 in carcere nei confronti di presunti appartenenti alla famiglia Santa Paola Ercolano che dopo essere usciti dalla carcere avevano ripreso le reti dell'attività criminosa. Ci racconta tutto. Mario Grasso. Le accuse sono pesantissime. Associazione mafiosa, estorsione, traffico di sostanza stupefacente, usura, violazione delle normative sul controllo delle armi, altri reati ancora. 16 persone sono finite in manette, altre due destinatari invece della misura cautelare dell'obbligo di dimora o agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Odissea. Secondo gli inquirenti della procura distrettuale avrebbero di fatto ricostituito il gruppo criminale afferente a Cosa Nostra del gruppo Santa Paola Ercolano nell'area etnea che va da Cireale ad A Cicatena cercando di condizionare le attività e le dinamiche socio-economiche mediante le estorsioni, l'usura e altri reati tipici delle consorterie malavitose. Si tratta di persone tutte note alle forze dell'ordine, molti di questi avendo scontato le pene definitive e usciti fuori dal carcere avrebbero ripreso le antiche attività di fatto assumendo il controllo del territorio. Due i gruppi, uno ad A Cicatena con al vertice Antonino Patanè detto Nino Coca-Cola, l'altro ad A Cireale guidato da Rosario Parebianco detto Cattabullata. I gruppi sarebbero confluiti in un'unica struttura sotto la guida del Patanè in continuità con le attività del vecchio gruppo guidato da Sebastiano Sciuto. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Catani e dal commissariato di pubblica sicurezza di A Cireale dalla gennaio del 2019 alla 30 novembre dello scorso anno. E avrebbero documentato la riorganizzazione sul territorio della storica organizzazione criminale. Patanè era stato scarcerato nel novembre del 2018 e avrebbe assunto il comando dell'organizzazione riorganizzando la struttura. Quindi la riunificazione degli storici vertici criminali per rimodulare l'assetto dell'associazione in termini funzionali. Diversi gli episodi estorsivi ricostruiti dalla polizia di Stato ma che non hanno trovato riscontro nelle denunce dei commercianti o degli imprenditori. Vessati dall'assodalizio che in un caso aveva anche chiesto circa 2000 euro per comprare sotto Natale i panettoni per tutti. Gli incontri sarebbero stati documentati anche all'interno di un autonoleggio di A Cireale che sarebbe stato, secondo la polizia di Stato, quasi una sorta di base logistica. Sarebbero state documentate delle attività vessatorie ai danni di agenzie di scommesse videopoker, di ambulante, di gelato, poi ancora ai cavalli di ritorno per la restituzione di roba rubata, quindi un'estorsione ad un libero professionista. In un'occasione è stato rinvenuto anche uno fucile. L'indagine è stata condotta con intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché con investigazioni di tipo tradizionale. Non è stato ancora instaurato il contraddittorio tra le parti, ma gli indagati sono sospettati di far parte della frangia cesa e della famiglia mafiosa di Cosa Nostra, Santa Paola e Ercolano. Di fondamentale importanza anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come Mario Gaetano Vinci Guerra, Carmelo Porto, Giovanni Larosa. Si esce, si ricomincia, ma quasi istantaneamente. Per fortuna, devo dire, la ormai oleatissima macchina repressiva funziona altrettanto bene. Quindi, se da una parte è confortante registrare che a fronte della ripresa sistematica di questa azione pervasiva criminale corrisponde l'altrettanto immediata azione, diciamo, investigativa condotta dalla Procura e da tutte le forze del nord e del territorio, dall'altra non si può non constatare, come diceva il prefetto Pocanzi, che in qualche modo ci si aspetterebbe, anche a fronte dei successi reiterati, che ormai negli anni, ma parliamo di decenni ormai, sono stati consolidati soprattutto da queste parti, ci si aspetterebbe magari qualche rigurgito di legalità in più da parte dei cittadini. Nel corso di indagini è stato ritrovato un fucile interrato in una pertinenza di uno degli indagati e questo chiaramente è un ulteriore riscontro che l'associazione era armata e per di più durante le intercettazioni si ascolta insomma anche parlare di armi e l'associazione era temuta anche in quanto risaputamente armata. E sono diversi gli episodi estortivi finiti nelle maglie della Polizia, ma nessuna denuncia. Il direttore della Centrale Anticrimine di Polizia di Stato, Francesco Messina, sollecita i cittadini perché collaborano con le forze dell'ordine nella repressione al crimine. Chi esce dal carcere torna a governare il territorio. è l'amara riflessione del direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina, che intervenendo a Catania durante la conferenza stampa dell'operazione antimafia Odissea sottolinea come non vi sia risposta civica adeguata allo sforzo dello Stato e delle forze dell'ordine. Nessuna denuncia di estorsione è stata infatti presentata rispetto invece ai riscontri maturati dalla Polizia di Stato durante le indagini. Dobbiamo anche creare le condizioni perché a quest'azione di repressione consegua con l'apertura di queste finestre che si hanno sul territorio dovute all'intervento repressivo consenta ad altro Stato di intervenire, penso per esempio al sociale, e ai cittadini in qualche modo di maturare una sorta di affidamento maggiore perché anche in questo caso, in questa operazione, ci sono dei fatti estorsivi che sono il tipico reato fine per il controllo del territorio, cosa nostra è una sorta di azienda che produce protezione, ci sono questi fatti estorsivi che non sono stati denunciati e non è una cosa che ci lascia indifferenti che nonostante siano stati raggiunti i risultati che abbiano dimostrato che lo Stato è più forte dall'organizzazione mafiosa c'è ancora una parte di cittadini che non ha perfezionato il senso civico e che persiste nell'affidarsi dal punto di vista della protezione a queste organizzazioni. Secondo il prefetto Messina, le organizzazioni criminali si starebbero riorganizzando, ripartendo dal basso. Abbiamo riscontrato un tentativo di ricominciare dal basso, come dice lei, per riprendere innanzitutto il controllo del territorio e dal controllo del territorio ottenere quel capitale sociale, quel consenso che poi può fare ripartire l'organizzazione mafiosa che ha subito dei colpi e che ha nel corso degli anni cominciato a perdere quel suo verticismo che l'ha portata a diventare un'organizzazione veramente potente. In questi 30 anni sono stati raggiunti degli ottimi risultati e direi che Cosa Nostra sta passando in questo momento un periodo, come dire, non positivo. Dobbiamo continuare a operare sul piano del contrasto militare, continuare a reprimere. Quindi poi l'intervento sul territorio, ma con l'aiuto, dice Messina, dei cittadini. E adesso andiamo nel messinese, quattro gli arresti compiuti dai carabinieri per sfruttamento della prostituzione a patti. Tutto è partito dalla denuncia di una squillo. L'immobile era stato preso in affitto, un grazioso appartamento a Brolo sulla costiera tirrenica di Messina, alla modica cifra di 300 euro al mese. Quella casa però non veniva utilizzata come abitazione, ma subaffittata a prostitute che versavano 70-80 euro al giorno. Una cifra ritenuta cara da una delle squillo arrivata nel 2020 da Roma e che ha denunciato tutto ai carabinieri, dando il via di fatto alle indagini sul giro d'affari prima di tornarsene nella capitale. Due anni di appostamenti, intercettazioni e interrogatori da parte degli uomini della Compagnia dei Militari dell'Arma di Patti che hanno portato all'esecuzione di quattro misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della locale procura della Repubblica. Tre degli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati. Tre degli indagati sono accusati anche di detenzione ai fini di spaccio e di sostanza stupefacente. Nel corso delle indagini, nel periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021, sono state identificate complessivamente sei donne che sarebbero state sfruttate, cinque colombiane e una ecuadoriana, che si sono alternate tra loro adottando un costante turnover e abitando la casa nel corso del tempo, più volte in distinte circostanze. L'attività da loro esercitata è stata riscontrata attraverso le dichiarazioni di numerosi clienti opportunamente sentiti, quali persone informate sui fatti identificati grazie alle attività di indagine che hanno consentito di documentare un costante e considerevole afflusso di uomini in quell'appartamento. In tutti i casi è stato riscontrato che la presenza di quelle donne sul territorio brulese è stato costantemente pubblicizzata mediante annunci pubblicati in rete e su siti dedicati, così come dell'appartamento adibito a casa d'appuntamenti. Nel corso delle indagini è stato anche documentato come il principale indagato avesse la disponibilità anche di cospicui quantitativi di cocaina, che lo stesso definiva neve, e che offriva ai numerosi suoi interlocutori, anche in occasione di incontri sessuali programmati, motivi per il quale è ritenuto responsabile anche di detenzione e spaccio di droga reati questi commessi in diverse località della Sicilia nel periodo compreso tra il novembre 2020 e il febbraio 2021. Indagato per lo stesso reato, anche un altro uomo che avrebbe invece ceduto metadone a questi ultimi è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. La polizia ha arrestato per scambio elettorale politico mafioso Pietro Polizzi, uno dei candidati di forza età del Consiglio Comunale di Palermo alle elezioni che si terranno domenica prossima. Secondo la Procura, per essere eletto avrebbe stretto un patto con i boss dell'uditore, i costruttori Sanzone, storici alleati della capomafia Totò Reina, che ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell'ultimo periodo della latitanza. Pietro Polizzi, ex consigliere provinciale, eletto all'epoca nell'Udc, viene ritenuto un esponente politico di spicco. arrestato anche Agostino Sanzone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di Via Bernini, in cui Reina passò gli ultimi mesi prima dell'arresto del 93 e un suo collaboratore. Contro l'aspirante consigliere comunale ci sarebbero alcune intercettazioni ambientali che hanno indotto la Procura a chiedere la misura della custodia cautelare in carcere, conversazioni dalle quali emergerebbe un patto elettorale stretto tra l'esponente di Forza Italia e Sanzone. Cambiamo argomento, adesso torniamo a Catania. Su iniziativa del circolo Giuseppe De Felice Giuffrida si è tenuto un incontro con la cittadinanza all'appassiatore, un dibattito ricco di spunti e proposte per una politica di ascolto del territorio. Salvo Couture. Il appassiatore di Catania ha fatto da ambientazione l'incontro promosso dal circolo catanese intitolato alla figura di Giuseppe De Felice Giuffrida, sindaco illuminato di Catania, il cui ricordo rivive nei verbali e negli atti politici ufficiali che lo consacrarono ad esempio a punto di riferimento di capace amministratore pubblico. Idee e progetti per il futuro di Catania nel confronto svoltosi ieri pomeriggio per accogliere proposte per una città da rifondare, rinnovando la classe dirigente. Quelle in carica, date alla mano, accusano il promotore del circolo, opere in maniera sfittica e lontana dalle reali esigenze della gente. Diversi punti trattati durante la serata, con il coinvolgimento di giovani, pensionati, imprenditori ed altre figure della società civile che si sono alternate sulla tribuna per esporre liberamente la propria visione e denunciare le strutture, gli abusi, ma soprattutto il profondo solco creatosi tra amministratori ed amministrati. Quasi 200 persone hanno preso parte alla chiamata del circolo De Felice, desiderose di confrontarsi, segnalando i molteplici disastri che lentamente stanno erodendo il tessuto sociale di una città solare e dalle tante potenzialità inespresse o accantonate in una sorta di resa collettiva per mancanza di punti di riferimento da cui prendere spunto per una rinascita collettiva che sappia cogliere le istanze dei cittadini e tradurle infatti sugli insegnamenti di Peppino De Felice, cui è dedicato il circo, l'esempio sempre attuale, di quello che dovrebbe fare un politico il giorno dopo essere stato eletto a cariche istituzionali, operare nell'interesse dei propri concittadini e non servirsene con false promesse. A passi a Torre, ieri c'era la Catania desiderosa di dare il proprio contributo e uscire dal torpore in cui è precipitata negli ultimi vent'anni, un'occasione per confrontarsi a viso aperto e gettare le fondamenta per una città che sappia guardare al proprio futuro con ottimismo, partendo dalle cose più semplici, sottolinea l'Avvocato Peppino Libera, in prima linea nella difesa dei più deboli e voce di chi voce spesso non ha. La figura di De Felice per ripartire, Avvocato Libera? Speriamo, noi ce la stiamo mettendo tutta. C'è molta partecipazione per la prima di questo circolo? Io mi sono stranizzato anch'io, vuol dire che la gente ha fame e quando ha fame vuole mangiare, parlo non di cibo, fame di socialità, di politica, di amore, ci vuole amore per questa città, in ogni città ci dovrebbe essere amore. Cosa ha perso questa città negli ultimi anni? Lo sanno tutti cosa ha perso, non c'è amministrazione, tutto sfasciato, le cose più stupide, io parlo della lampadina di via Belfiore per dire una strada popolare, la lampadina non è né di destra né di sinistra, a livello nazionale ora ci sono i referendum, chi vota sì chi vota no, ci fu il referendum sul divorzio, quelle sono ideologie nazionali, ma a livello civico, a spazzatura, o si è comunista o si è fascista, a spazzatura si deve togliere. A capo del movimento che si ispira ai valori di Giuseppe De Felice Giuffrida, Alessandro Lipera, promotore dell'appuntamento del passiatore, moderato da Simona Zagarella, con protagonista la società civile. I problemi della città di Catania sono i problemi di un po' tutte le città italiane, soltanto che qui le cose o avvengono al superlativo o non avvengono. Intanto dobbiamo partire dalle idee, le idee che creano entusiasmo, creano sicuramente consenso, ma creano la consapevolezza di rendersi conto dove vogliamo andare e soprattutto in che posto dobbiamo vivere. Oggi c'è un serio problema, quello della fuga di cuori, di teste e di cervelli. Dobbiamo mettere un argine a tutto questo e l'unico modo è una politica presente sul territorio, cosa che purtroppo le ultime sindacature non hanno permesso. A Catania è confermata la bandiera verde per le spiagge adatte alle famiglie con bambini. Oggi nella giornata mondiale degli oceani, gli attori che ruotano attorno al mondo del mare hanno delineato tappe ed obiettivi della nuova stagione balneare. Nella giornata mondiale degli oceani che si celebra oggi a Catania, la notizia è che al litorale etneo è stata assegnata la bandiera verde, simbolo di spiagge adatte a famiglie con bambini, nella commissione anche pediatri, e che ambisce alla bandiera blu a dicembre il termine per il conferimento di questo importante riconoscimento. Intanto stamani in municipio sono stati illustrati gli aspetti della ormai imminente stagione balneare. Sarà un'estate all'insegna della sicurezza, al lavoro in questi mesi amministrazione comunale, ASP, Capitanieria di Porto, Associazioni di Categoria e AMTS che potenzierà la linea di quella diretta alla playa con corso ogni 10 minuti. Già da diverse settimane è possibile godere della spiaggia con ombrelloni e lettini perché diverse strutture balneari si sono attrezzate e stanno dando questo genere di servizi. Il bar è aperto, i servizi funzionanti, il bagnino di salvataggio è presente, quindi già da ora si può godere della spiaggia. Mentre da giorno 10, venerdì, ci sarà l'apertura delle strutture con la stagione abbonamenti, quindi le postazioni in abbonamento, le cabine, i camerini potranno essere fruite fino all'11 settembre. La bandiera verde è un particolare riconoscimento che viene dato a quelle spiagge che hanno una particolare predisposizione per l'accoglimento delle famiglie e dei bambini. Quindi non solo la qualità delle acque, ma anche tutto quello che sono i servizi a misura di bambino e famiglia. Questo particolare riconoscimento lo abbiamo ottenuto diversi anni fa e ancora oggi lo manteniamo perché continuano a migliorare queste tipologie di servizi. Un pool per offrire servizi che guardano ad un futuro post-pandemico certamente più florido rispetto a quello degli ultimi due anni. Anche perché era una consuetudine che veniva fatta insieme agli stabilimenti balneari prima del Covid e quindi era anche un modo per ritornare alla normalità e cominciare a respirare un po' di aria di mare libera. Le novità per quanto riguarda l'offerta balneare del Comune sono legate alla riqualificazione, devo dire ormai totale, delle spiagge libere. Faremo anche la passerella, come già sapete, a San Giovanni Licudi per i disabili e un solarium a Piazza Europa, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto nell'individuare una ditta che fosse in grado di realizzare questi lavori a causa del caro materiale. Però fortunatamente eravamo partiti per tempo e quindi riusciremo entro giugno ad concludere tutta quella che è l'offerta balneare del mare libero e gratuito per tutti. Vogliamo anche porci un obiettivo nel medio e lungo periodo che possa essere anche uno stimolo per ancora di più migliorare la situazione della Playa. Ed è quella di, abbiamo già manifestato questa intenzione alla Fondazione a Roma, per iscriverci entro dicembre, che è la data conclusiva entro cui si può effettuare la richiesta, per iniziare un percorso per ottenere appunto la bandiera blu. Far sì che tutti i ceti che comunque insistono sul mare, sia per attività lavorative che per attività ludiche, possono praticamente convivere godendo e ricavandone quelli che sono i profitti per le attività commerciali, chiaramente, come per le attività professionali, così come per le attività ludico-ricreative, così come per il semplice diportista che decide di andare a rilassarsi per un'ora in mare. senza commistione e senza conflitti tra un genere e l'altro. Mi riferisco alla tutela dei bagnanti, alla separazione delle acque riservate alla balneazione rispetto a quelle dove possono essere effettuate le attività di navigazione, così come tutte le altre attività, dalla pesca subacqua alla pesca professionale, eccetera. Ed è sempre più conflittuale il rapporto tra pescatori e delfini. In numerosi gli episodi di depredazione documentati, in occasione della giornata mondiale delle oceani, l'associazione Mare Camp ha organizzato un workshop per ipotizzare le misure da adottare a salvaguardia dei cetaci e della pesca in generale. Vediamo. Sono sempre più frequenti i conflitti di depredazione della cattura di pesca, durante le quali uno cetaceo si ciba parzialmente o completamente di un animale catturato dagli attrezzi da pesca, prima che questo possa essere recuperato a bordo del peschereccio, dalla pescatore. Delfini che intelligentemente trovano la preda già bella e pronta, ma che spesso subiscono poi l'era del pescatore. Si tratta di un'importante questione emersa nelle regioni del mar Mediterraneo, soprattutto tra le flotte che praticano la piccola pesca artigianale. Oggi, giornata mondiale degli oceani, l'associazione Mare Camp, ente del terzo settore che conduce attività di ricerca, formazione e divulgazione sulla conservazione dei cetaci, ha avviato una tre giorni di studio, con scambi tra esperti provenienti da diversi paesi del Mediterraneo che metteranno in evidenza l'estensione del problema riscontrato in diverse attività di pesca della regione del Mediterraneo, aiutando a identificare soluzioni per ridurre gli impatti economici per i pescatori e dall'altra parte per evitare il rischio di catture accidentali di delfini negli attrezzi da pesca, quali reti e palangari. Sì, diciamo che già è il secondo progetto che facciamo su questo rapporto conflittuale e finalmente forse abbiamo qualche elemento su cui poter studiare e vedere di mitigare un po' il rapporto fra piccola pesca e cetaci. C'è da riequilibrare il sistema? Sì, siamo arrivati a momenti terribili, addirittura abbiamo sentito che qualche pescatore ha anche sparato contro i delfini. È un rapporto che bisogna mitigare sicuramente. Capiamo che loro hanno, alla fine della giornata, hanno danni perché il delfine è intelligente e preferisce andare a mangiare sulla rete che andare a 300-400 metri. Però effettivamente fanno dei danni alle reti e il pescatore ne risente tanto. Però diciamo che i pescatori catanesi, quelli con cui stiamo collaborando, stanno riuscendo a capire un attimino che effettivamente tutti dobbiamo avere i nostri spazi. Cambiamo argomento, adesso andiamo a riposto. Tutto quello dei rifiuti è un problema che riguarda tutte le comunità, nello specifico sentiamo nel territorio di riposto, quanto detto stamattina dalla Sindaco Caragliano. Solo 500 tonnellate al giorno, poi cancelli sbarrati per tutti. È già saltata la soluzione tampone della regione siciliana per far fronte all'emergenza rifiuti nei comuni che conferiscono nella discarica di lentini gestita dalla Sicula Trasporti. Il rischio adesso è di trovarsi nuovamente, ma stavolta in piena estate, con le strade stracolme di spazzatura a Catania, così come in tutti i comuni della provincia. Il presidente della SRR Catania Nord, Enzo Caragliano, esprime preoccupazione e sollecita un'audizione urgente con il prefetto di Catania alla luce della comunicazione della società, che ha drasticamente ridotto le tonnellate di rifiuti accettate, certamente quantitativi largamente insufficienti a far fronte alle esigenze dei comuni. Già ci siamo attivati circa dieci giorni fa come SRR, richiedendo anche l'intervento del prefetto per una riunione congiunta con la regione siciliana, proprio per affrontare l'emergenza dei rifiuti. Rifiuti che siamo in estate, non alla soglia, siamo in estate. Siamo in particolar modo tutti i comuni riveraschi, vivono di turismo e quindi di visibilità, ci troveremo a essere inginocchiati. Per scongiunarlo si era fatta questa cosa. Dopo neanche 48 ore è arrivata una comunicazione della regione siciliana in cui ci dicevano che la Catanzaro e la Caltanissetta hanno dato più spazio per poter afferire la sigla del trasporto e scaricare quindi questo afferimento, poterlo diluire sul territorio. A distanza di due o tre giorni, la sigla del trasporto comunica che ridurrà drasticamente a 500 tonnellate al giorno perché non ha più la possibilità di afferire né alla Catanzaro né agli abbancamenti di Enna e Caltanissetta. Caragliano adesso chiede aiuto al governo centrale e sollecita l'attivazione con assoluta urgenza di un tavolo di crisi in prefettura al quale convocare tutti gli attori che a vario titolo hanno un ruolo nella gestione dei rifiuti. Chiederò di nuovo questa audizione tramite Sua Eccellenza e Prefetto che poter quantomeno calmerare e ripristinare con urgenza con l'aiuto della regione la possibilità di poter afferire in discarica e non fare soffrire tutti i comuni che appartengono a questo territorio alla SRR Catania Nord ma soprattutto il fatto che la notte i nostri camion di tutti i comuni vengono fermati e rimandati indietro noi sicuramente soffriremo quello che da anni cerchiamo di scongiurare. Venerdì prossimo nella sede della SRR a Giarre è stata convocata una riunione del CDA per analizzare la vicenda. Un articolo su un quotidiano nazionale conferma un fenomeno migratorio nella sanità siciliana eppure questa offre standard elevati garantendo servizi anche in piena pandemia. Stamattina incontro per uno focus l'ospedale Garibaldi d'Inesima per ragionare sui numeri che vanno in contrasto con la qualità di cure e prestazioni nella nostra isola. Oncologia, urologia, ginecologia, bariatrica e robotica punte di diamante della sanità siciliana eppure i dati diffusi dai quotidiani nazionali confermano una tendenza migratoria degli utenti che preferiscono accedere a prestazioni mediche fuori dall'isola. 7.000 ogni anno quelli che rinunciano all'offerta sanitaria che è di altissima qualità da cui la scelta di organizzare per il secondo anno una live surgery al Garibaldi d'Inesima con sessioni operatori e multimediali da Catania, Messina e Palermo. Un evento che in qualche modo ci lascia per prezzi e per certi versi con un piccolo disappunto dico questo da siciliano innanzitutto ma lo dico anche perché gli sforzi che sono stati fatti in questi ultimi dieci anni dalla regione siciliana per migliorare l'offerta sanitaria sono stati tanti, notevolissimi molto ben registrati da quello che è stato il fenomeno Covid perché a detta di tutta Italia la Sicilia sarebbe tracollata da lì a poco questo non è avvenuto la Sicilia ha dato una risposta importante ma dico di più un'azienda come la nostra non solo si è difesa dalla pandemia ma ha erogato sanità e ha cercato di non bloccare le liste d'attesa per i pazienti in emergenza e in oncologia e non solo devo dire separando le strutture l'obiettivo è mantenere vivo il dibattito e ragionare su numeri che danno una dimensione ampia del fenomeno migratorio che si vuole ridurre prima di tutto informando sugli standard delle prestazioni questo triste bilancio di un passivo così forte specialmente per quello che riguarda l'oncologia in qualche modo ha suscitato in noi una reazione la reazione che in cosa consiste innanzitutto non bisogna criticare il giornalista perché il giornalista utilizza dei numeri la forza dei numeri incontrovertibile bisogna prendere atto che il fenomeno c'è e insieme stare uniti riesaminare quali sono i nostri percorsi e vedere se si può migliorare il dato credo che siamo sul pezzo la fondazione del carnevale di Acireale organizzatrice della manifestazione più importante della città stamattina ha reso noto il bilancio inattivo dell'evento dopo due anni di incertezze a causa della massa debitoria accumulata dalla passata gestione vediamo dopo due anni di tribolazioni sulla gestione dei conti e il mai celato rischio di default la fondazione organizzatrice del carnevale di Acireale ha diffuso il bilancio inattivo nonostante il peso ereditato dalle passate gestioni con una massa debitoria di circa 600.000 euro e segno più con ricavi per 60.000 euro fa me sperare sommando in oltre due anni di pandemia il fermo della manifestazione quanto fatto dal consiglio di amministrazione della fondazione rappresenta un mezzo miracolo frutto di una gestione sapiente e controllata considerando i costi reali dell'organizzazione complessiva che impegna a comune per un importo di 550.000 euro la restante parte del denaro arriva dagli enti sovracomunali e dallo smigliettamento che varia a seconda del periodo nel 2019 la vendita di ticket ha permesso di incassare 350.000 euro contro i 100.000 euro di questa edizione i dati illustrati da Ignazio Tuzzolino esperto di finanza e componente del consiglio di amministrazione della fondazione lasciano ben sperare per il futuro il patrimonio netto fa segnare i numeri di rialzo e tutti i creditori sono stati liquidati secondo accordi il piano di spesa del carnevale del prossimo triennio non dovrebbe subire ulteriori patemi e contraccolpi sui conti gli accordi di collaborazione con altre manifestazioni analoghe che si svolgono in tutta Italia hanno portato dei benefici in termini di promozione della manifestazione oltre i confini regionali abbiamo ereditato circa 600.000 euro di debiti nei confronti dei fornitori oggi ne abbiamo a fine 2021 160 di cui 100 però sono fatture da ricevere cioè sono legate all'ultima manifestazione che abbiamo effettuato per cui sono già stati pagati nei primi mesi dell'anno in corso ereditiamo dai 600 ne sono rimasti una sessantina siamo assolutamente in linea ricordo che noi abbiamo abbattuto i debiti verso i fornitori con un finanziamento che ci ha erogato l'allora credito valtellines il finanziamento nella misura di 300.000 euro è stato interamente rimborsato sino ad oggi nel senso che le rate sono state tutte rispettate anzi anticipo che la rata di giugno avevamo della liquidità l'abbiamo pure pagata in anticipo per cui prevediamo entro la fine di questo esercizio di avere un debito residuo intorno ai 50.000 euro che è l'ultima rata che si cade a giugno del 2023 certo il covid ha pesato sulla gestione della manifestazione e anche dei conti il covid ha pesato in termini di mancata realizzazione dalla manifestazione e quindi di mancato sbigliettamento ricordiamo che nel bilancio del 2020 noi abbiamo incassato dallo sbigliettamento quasi 350.000 euro che chiaramente in questo esercizio sono venuti meno però un rigoroso e attento controllo dei costi ci ha permesso anche quest'anno di chiudere un bilancio inutile accantonando delle somme per delle manutenzioni che dobbiamo fare sulla cittadella e accantonando anche delle somme per fare ulteriori pulizia del portafoglio crediti che purtroppo è ben ereditato gravato da procedure concursuali o da crediti che erano assolutamente inesigibili il carnevale è un brand che va sostenuto e potenziato e già si pensa alla prossima edizione che tornerà al periodo conforme dal 10 e 21 febbraio del 2023 mentre in lavorazione l'edizione agostana stiamo aspettando che il comune ci dia il via alla manifestazione quindi noi siamo pronti del resto l'impegno della fondazione è molto limitato perché i carri sono già pronti quindi portarli in piazza non è un grande problema la manifestazione gode buona salute i conti sono a posto e il futuro appare più rosio la sembra ci reale punta sul carnevale il nostro prodotto principe e del resto come non potrebbe essere abbiamo ospite a tutto il mondo sappiamo bene quello che abbiamo passato a causa della pandemia ma ora siamo pronti diciamo a rialzare la testa ad affrontare la nuova avventura con più grinda con più entusiasmo ma soprattutto con un più organizzazione ci fermiamo linea alla regia a tra poco per il meteo non ci sono ulteriori notizie vediamo dunque insieme le previsioni meteo le previsioni meteo per la giornata di domani 9 giugno 2022 il sole splenderà soprattutto ad occidente qualche nube invece nel resto dell'isola compresa Catania i mari saranno comunque calmi le temperature previste tra minime massime con il picco più alto che si registrerà nel Siracusano dove si prevedono 35 di massima e 20 di minima Catania invece leggermente più bassa la temperatura massima che si girerà sui 32 gradi con 12 di minima più freddo per così dire anche se in questa stagione il termine non è esatto ad Enna dove si andrà dai 15 di minima ai 26 di massima insomma siamo veramente in clima assolutamente estivo abbiamo concluso vi ricordo che potrete seguire questa edizione del telegiornale sul sito retv.it sui nostri canali social nel prossimo appuntamento con l'informazione più tardi a partire dalle 19.45 in diretta ringrazio in regia Paolo Coco e Emanuele Lamosumeci vi auguro il più cordiale buon pomeriggio a partire a partire a partire